Primi due giorni di proiezione del Coral Coast di Alghero, l'abbiamo vista anche ieri sera, quale è la sua impressione di questa nostra iniziativa? È una bellissima iniziativa, io non sono di Alghero nel senso che sono romano, però vivo ad Alghero da tempo, la mostra del cinema, i festival del cinema mi hanno sempre affascinato e questo è fatto abbastanza bene, visto delle cose molto belle, interessanti, inedite, sperimentali e quindi c'è qualcosa su cui riflettere, è importante. Questo è il nostro intento, è il numero zero, questo tentativo è proprio l'inizio. Noi speriamo di riportare Alghero ai fasti del meeting internazionale del cinema degli anni 60, questo è il nostro fine. Io auguro che tutto sciogli e tutti bene. Tenga presente che abbiamo avuto oltre 150 film per questa prima edizione, ne abbiamo selezionato appunto una ventina. Quindi qual è il suo suggerimento per crescere bene in questa iniziativa? Ma diciamo io pochi suggerimenti posso dare perché la cosa mi è piaciuta, quindi da suggerire, forse ci vorrebbe più comunicazione iniziale, perché io l'ho saputo così perché ho letto il giornale di Corsa, però mi sembra che manchi, non per colpa di chi non lo so, forse una propaganda, perché io conosco gente che si occupa di cinema che non ne sapeva niente e non ne sa niente, quindi forse la comunicazione è un elemento importante. Dobbiamo migliorare la comunicazione. O almeno potenziarla. Grazie mille, buona visione. Grazie.